ciao a tutti e ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video oggi andremo a preparare il liquore alla liquirizia allora tutto ciò che vi occorre sono 500 mg scusate di alcol puro 95 gradi poi 500 g di acqua 500 g di zucchero ovviamente il contenitore dove poi andremo a imbottigliare il nostro liquore e poi 220 g di caramelle alla liquirizia allora il procedimento è molto semplice e posso dirvi che potete tranquillamente anche utilizzare la liquirizia in polvere però io non l'ho trovata e di conseguenza andrò a utilizzare questa allora dobbiamo far sciogliere e lo zucchero con l'acqua una volta che poi si è sciolto andiamo ad immergere le nostre caramelle facciamo anche qui miscolare e scioglierle dopodiché una volta che si è raffreddato e andiamo a metterci l'alcol e ho letto che c'è chi fa anche un passaggio che poi con il collino passa la la liquirizia non lo so adesso insomma vediamo un po strada facendo come verrà e non so se farò anche io questo step e niente e poi dopo lo mettiamo in frigo credo che anche qui diciamo per avere un grado di maturazione penso ci vorrà all'incirca un mesetto però insomma andiamo a prepararlo e ci vediamo dopo ciao 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 ciao